Buon pomeriggio, buon pomeriggio, eccoci siamo ancora noi di Vanity Fair, queste sono ancora le Vanity Fair Quarantine Stories, io sono Federico Rocca e questo è il primo appuntamento di un pomeriggio molto ricco, molto denso di appuntamenti, questo è appunto il primo sono le ore 15 precise e vediamo se è altrettanto preciso il nostro ospite di oggi che non sa o se svelarvi già o se lasciare che si presenti lui da solo in tutto il suo splendore diamogli qualche secondo di tempo, diamo anche alla miopia la possibilità di riuscire a vedere se ci sta mandando la richiesta di partecipazione e qui con l'età si peggiora la vista, non ci vedo più niente, però adesso ce la faccio, lo vedo, ecco, le cose fondamentali a vederle quindi diamo il benvenuto a Rullo di Tambure, eccolo, a Ernesto D'Argenio Buongiorno, ciao Federico Buon pomeriggio, come stiamo? Bene, bene Con quell'entusiasmo lì? Ma sì, dai, bisogna tirarlo fuori, no? Sempre, quando si riesce, sempre Intanto, io ti vorrei chiedere, scusa, ma devo partire con una curiosità personale, se posso Da dove esce questo cognome meraviglioso che hai, che è il cognome di un personaggio di un romanzo dell'Ottocento, d'Argenio Anche raro, no? Come cognome Bella domanda, è la prima volta che me la fanno Ma d'altra parte Allora, guarda, non so chi, forse qualche parente canadese, perché c'è una parte della mia famiglia Che era andata in Canada, mi aveva raccontato questa cosa che, secondo me, se la sono inventata di sana pianta Però è molto simpatica Cioè, pare che Abbiamo fatto una ricerca e pare che nel Medioevo c'era questo paese che si chiamava Argenio E c'era questo cavaliere che dal nord Italia percorse tutto lo stivale e faceva delle buone azioni strada facendo E quindi tutti parlando di lui dicevano, quello è il cavaliere che viene da Argenio E col tempo è diventato di apostrofo Però Beh, facciamoci a rendere bene perché è una bellissima storia, no? Così Un'epopea cavalleresca Tu ti senti un po' cavaliere nel tuo essere? Ma allora, guarda... Sì, sì, sì Senza false modestie No, perché essendo io un motociclista, divido... I tempi moderni il cavaliere va in moto e chi andava in carrozza va in auto, sostanzialmente È un po' così E tu ami le motociclette, è vero? Sei proprio un vero centauro Ma no, mi piace più l'aspetto, diciamo, romantico Più il viaggio, più la dimensione anche solitaria, diciamo, del viaggio in moto Però ovviamente anche tutto quello che gira intorno, cioè anche semplicemente il fatto che è una passione Che si può condividere Mi piace un sacco la meccanica a me Ai 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 Mi piace la meccanica Ma ti stai dando da fare anche in casa, aggiustando le prese, gli elettrodomestici, quelli che non vanno mai Ti stai occupando così il tuo tempo? Sì, c'è una cassetta degli attrezzi bella rifornita dietro di me E mi do da fare parecchio Ma anche con pezzi di moto, c'è un serbatoio là dietro Quindi stai lavorando queste cose qua Sì, sì, perché mi danno gusto e non solo Guarda, io trovo veramente che i meccanici, quelli onesti, naturalmente Siano delle figure poetiche, devo dire Perché intanto, nonostante all'apparenza siano magari anche sporchi, a volte di grasso Comunque abbiano anche degli abiti logori, eccetera In realtà hanno tanta scienza nelle loro teste che permette alla persona che viene da loro Di farlo muovere Quindi questo è il punto primo Il secondo invece è che hanno un sacco di filosofia dentro di loro, secondo me Perché tutti i meccanici sanno che tutto si ripara E se non si ripara, si cambia Vabbè, certo, diciamo, hanno imparato la vita loro Cioè, hanno un po' capito come funziona No? Cioè, sono anche capito Veramente, c'è della filosofia in questo Stai tranquillo che si riparerà E se non si ripara, cambiamo il pezzo Bisognerebbe chiedere a qualche meccanico Come sta vivendo la quarantena, il lockdown Anche in questo caso si può riparare tutto Ma io credo di sì Alla fine ne usciremo con una carrozzeria nuova di zecca, no? Ma guarda, tra l'altro sono aperti i meccanici Stavo anche pensando in questo periodo Appunto, in cui le cose faranno un po' fatica a ripartire Ovviamente anche i set, penso Cioè, almeno non partiranno subito Di fare un po' un periodo di lavoro da un meccanico Non saresti il primo attore che si è cimentato con Mestieri Stani C'era Daniel De Luz che ha fatto il calzolaio Per il ciabattino Per anni Insomma, quindi potrebbe essere Poi, tra l'altro, scusa, io mi sono studiato un po' la tua biografia Hai fatto dei lavori Incredibili Intanto tu hai una vita, da quello che sembra super avventurosa Hai vissuto in ogni angolo, in ogni latitudine, longitudine dell'universo Cioè, hai fatto tanti lavori diversi anche, giusto? Sì, 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 è vero Tipo il più strano, se posso azzardarla, lo spalatore di neve Che è stato il più remunerativo, comunque Dov'è successo questa cosa qua? È successo in un piccolo comune della Norvegia Che si chiama Trisil, con la Y Se lo volete googlare Che poi, tra l'altro, è un paese piccolissimo Ma è il più grande impianto sciistico di tutta la Scandinavia E lì, ovviamente, il problema della neve, ovviamente, quando si stratifica sui tetti Il peso, il volume della neve, può sfondarli, praticamente Quindi c'è bisogno di qualcuno che vada a pulire, diciamo Ti avevo conosciuto, allora ero fidanzato con una ragazza svedese Che si chiamava Anna Svensson Che avevo conosciuto sulla nave da crociera dove lavoravo, dove facevo il sommelier Una nave su cui mi ero imbarcato a Singapore Visto che poi l'aspetto avventuroso Vabbè, ero imbarcato su questa nave a Singapore E per due settimane ho fatto, diciamo, la formazione, no? Quindi abbiamo fatto Singapore-Singapore Passando, ovviamente, per la Thailandia e tutto quel golfo lì Ho rischiato di essere cacciato dopo due settimane Per fortuna Perché? E vabbè, questi poi sono dettagli Eh no, sono dettagli che ci interessano Perché praticamente ci trovavamo Non vorrei sbagliare, ma credo nella Myanmar Che è l'attuale Birmania E una sera, praticamente, siamo usciti con una piccola combriccola Tra cui un ragazzo di Roma che faceva il cameriere E un restaurant manager di Torino Che mi ero ritrovato, tra l'altro, nella stanza a Singapore Appena arrivato su questo grattacielo enorme E l'autista che mi snocciolava la formazione dell'Italia 90, praticamente, quando mi ha portato E niente, una sera decidemmo di uscire Un'avventura veramente incredibile, ti dico Veramente incredibile E ricordo chiaramente questa immagine Anche abbastanza terrificante lì per lì Cioè, ci venne a prendere questo taxi Che ovviamente la lamiera del taxi Era forse un foglio di carta Come spessore Noi salimmo in macchina Ci portò, guidò per, credo, 40 minuti nel buio più totale Quando, quasi all'improvviso Emerse, così, dalle tenebre Una sorta di villaggio Con persone Ed erano forse già l'una, le due di notte Con persone che si muovevano nello spazio In maniera molto veloce Fuochi Persone che cucinavano in mezzo alla strada E a un certo punto Un ragazzo che si butta Un giovane, giovanissimo Che aveva avuto 8-9 anni Si butta sul cruscotto del taxi E praticamente sorride E con questi denti Che erano praticamente insanguinati Completamente Ho scoperto però poi Che in realtà è una radice Che si usa da quelle parti E che ti praticamente colora tutta la bocca E siamo finiti in un postaccio Dove voleva andare appunto Il restaurant manager di Torino Che poi era una sorta di strip club Ma allucinante Allucinante perché Praticamente Cioè finimmo in una sorta di Tipo in quei film americani Dove ci sono gli ascensori Con quelle saracinesche Che si tirano giù Arrivamo in questo posto Incredibile Io totalmente a disagio Giovannissimo Tra l'altro così Insomma Questa avventura Finalmente volse al termine Tornammo alla nave Che era attaccata al porto Però avevamo una fame nera Ed eravamo alloggiati Tra virgoletti alloggiati Visto appunto Che stavamo facendo questa Stavamo imparando ancora Diciamo tutti i codici della nave Eccetera Ci avevano permesso Di stare in una stanza Degli ospiti Che non era in quel momento Abitata ovviamente E avevamo l'ardire Di fare un room service Praticamente Pensa Cioè abbiamo riportato A casa la pelle Dopo quest'avventura E come dei gretini Abbiamo telefonato Per chiedere un hamburger Il ragazzo filippino Il cameriere Quando ce lo portò Aprimmo la porta Lui ci riconobbe Lì per lì Spaventato Tremava Ha buttato giù Praticamente questo vassoio Perché aveva capito Il guaio in cui noi Ci eravamo appena gacciati L'indomani Ci chiamò Praticamente Il hotel director Something E ci disse Insomma Ci fece Il famoso cazziatone Io non so Come siamo finiti Sui tetti Della Norvegia Da questo punto Però Ah sì Scusami Perché Allì conobbi Anna Svensson Che faceva Lei lavorava come Hairstylist Tagliava i capelli Nella piccola spa Di questa Era in realtà Era una nave da crociera Molto piccola Aveva 300 passeggeri Di capienza Massimo Quindi È veramente Piccola Tanto che Con la nave Addirittura Abbiamo attraversato Il canale di Suez Per dirti Quanto era piccola Quindi tu diciamo Così Sei capace Che salti su una Piccola nave da crociera Ti ritrovi In Norvegia A buttare giù La neve dai tetti Ed è tutto normale Tranquillo Sì È un tipo così Diciamo Ma diciamo Che sicuramente Non mi perdo d'animo Non mi Scoraggio Credo che Forse per questo Mi prendo entusiasta Perché insomma So che il momento Non è facile Ma Bisogna Nelle difficoltà Anche guardare E ti assicuro Che ne ho viste Le difficoltà In quei momenti Tra l'altro Poi L'esperienza Della nave da crociera Si era anche conclusa Poi in maniera negativa In realtà Tanto che appunto Io decisi di scendere Era finito In realtà Il mio periodo Io avevo finito I miei sei mesi Di mandato Mi avevano chiesto Di prolungarli Per altri due Perché gli serviva Sostanzialmente Un sommelier Lì a bordo Però è stata veramente Anche sgradevole A tratti Ho vissuto Delle cose Molto molto belle Come per esempio La generosità Di certi clienti Ho visto Delle diapositive Del mondo Che probabilmente Una vita viaggiando Non le avrei viste Naturalmente Ti parlo di diapositive Perché non è che Sono stato Che ne so Quattro giorni In un porto Tre in un altro Però Non mi butto giù Non mi perdo d'animo E se mi devo sporcare Le mani anche di grasso Non mi spaventa Questo Quindi Soprattutto per aggiustare Un motore Esatto Non ti ho chiesto Dove sei però In che città Sei a Roma Sì sono a Roma E con che stai passando La quarantena Sei solo Sono con la mia donna E il mio cane Anzi È una femmina anche lei La beba La beba Esattamente Non ce la fai Non ce la fai a vederla La beba Guardala Mi ridorme Lei tranquilla Beba Beba Bamba mia poverina L'ho proprio Resuscita Ma ragione lei Posso dire Senti Adesso Siccome mi sei molto simpatico Io vorrei che Alle persone Che non ti conosce Le sorometti Che una che non ti conosce Che ci sta seguendo Possa esserci Tu raccontassi I tre motivi Le tre ragioni Della tua carriera Per le quali Ernesto Adargenio E Ernesto Adargenio Cioè quali sono I tre motivi Per cui Ti si deve conoscere Però in generale Dici? Ebbè la tua carriera Insomma Ma perché Allora Mi si deve conoscere Perché Cioè Fondamentalmente Sono come voi Cioè Sono come Sì Sono come tante Delle persone Che ci guardano Non sono Un ragazzo Di cinisello balsamo Anche se non si direbbe più Dall'accento Che si è imbastardito Da Ovviamente Da origini meridionali Come credo Tanti anche Che ci guardano Che aveva un sogno Che ha preso Un strano giro Per raggiungerlo Ha fatto un lungo giro Per raggiungerlo Però insomma Ci sta Ci sta provando Anche magari ecco Senza peccare di presunzione Però anche con qualche Risultato Perché appunto Se penso Dallo spalare la neve Sui soffitti A stare accanto A Giallini Piuttosto che A Elena Sofianici In un nuovo Progetto Che non so Quando uscirà Ma spero presto Beh comunque Dai Tutto sommato Penso che devo essere Un po' Un po' orgoglioso Diciamo Poi dirlo Poi dirlo Diciamo Rocco Schiavone Rappresenta per te Diciamo Quello che è successo Cioè il vero successo L'hai agguantato Con Rocco Schiavone Possiamo Sei d'accordo Ma in realtà È stata un po' Una combinazione Tra squadra antimafia Che è stato Il mio vero La mia vera Prima serie Che mi ha fatto Conoscere a tante persone Che grazie a tanti Mi hanno apprezzato Sì E poi diciamo Che ho avuto un po' La conferma In Schiavone Per quanto è comunque Un prodotto Non dico per pochi Però insomma Non è proprio Mainstream Forse Non so Se sei d'accordo Però ha avuto Un grandissimo successo Per cui diciamo Se essere mainstream Vuol dire anche quello Sì Forse lo è stato Ok Allora sì Il successo Direi che non è Da mettere in dubbio Questa cosa Senti Qual è il primo film Che ti piacerebbe Anche sognando fare Il primo set Che è sul quale Volesti mettere i piedi Una volta finita Questo Chiamiamolo momento Che ci sta coinvolgendo Ma di Vuoi dire Il genere Di cui Sì Cosa ti piacerebbe Proprio fare A questo punto Della tua carriera Ma Allora Guarda Nutro Una passione Smisurata Per gli anni Settanta Ottanta Quindi Sicuramente Qualcosa d'epoca Mi piace molto Tutto quello Che ha a che fare Con Appunto Quello che adesso Viene definito Vintage Anche Di cui tra l'altro Posseggo qualcosina E mi piacerebbe Un noir Sicuramente Un bel film noir Con tinte anche Appunto Chiaroscurate O un bel western Ah In Italia Purtroppo Non se ne fanno Più Moltissimi Anche se Siamo stati maestre Diciamo Del genere Ti rendi conto Perché Ma per scelte Credo anche Siamo Siamo I numeri Uno Di lapidare Ma tu ti sentiresti Come nel ruolo Del buono Del brutto Del cattivo Ma Del cattivo Per sfogare Se non altro L'arte Tra virgolette Ti permette Questo Ti apre una finestra Su quello che Non è permesso Nel mondo Diciamo Normale Quindi Sfogherei Tutta quella parte Di me Che c'è Attenzione Ernesto Il cattivo Ma guarda Infatti Il mio primo ruolo Per cui Qualcuno Veramente Ancora Mi scrive E mi fa Veramente Tanto piacere Era comunque Un personaggio Che Sì Aveva una sua Umanità Una sua Etica Però Era un personaggio Oggettivamente Negativo Beh Sono anche I personaggi Che danno Agli attori In genere Come dire Grandi chance Di performance Memorabili E appaganti Fare i cattivi Quando sono ben Tratteggiati E infatti Il mio ita L'ho avuto Anche più E è piaciuto Ancora di più Nel momento In cui inizia Ad apprendere Una deriva Credo Forse È possibile Parlavi Di passioni Vintage In effetti Io so Però Correggimi Che tu hai Una bicicletta Del 55 Sì Sta là Io qua L'ho messo Un mio Però Non c'è Non c'è Praticamente E la usi Questa No Usi meglio Ma La uso Ogni tanto Praticamente Eccola qua Ah sì C'è Confermi Ma perché Dall'altra parte Adesso non posso Partela vedere Ma dove c'è la corona Praticamente Della bici C'è Ci sono delle B Ci sono tre B Nella corona Che fanno girare la catena E stanno per B Bianchi Eh sì sì Per bianchi E poi è una Fiat 124 Pure Sì sono Sono un folle Sono un folle Sostenato Sì sì Mentre ero lì a Catania Che giravo squadra antimafia Sì ho questa passione Devo dire Che coltivo Ovviamente Con questo unico pezzo E con tanti giornali Che compro Però C'era un signore Che vendeva Praticamente L'auto Di suo padre Che purtroppo Per lui non c'era più Che era un barbiere Di Catania E La vendeva Tipo a 500 euro E E io andai Con questo Questo signore Che poi era il runner Della produzione Che ci portava E mi disse Mi raccomando Però non gli Non gli fare proposte Mi disse No? Cioè noi Andiamo a vedere Ma tu Non dire Che sei interessato Andiamo a vedere Andiamo a vedere Questa macchina A me piaceva Ovviamente La conoscevo Con l'acqua lì Nella bocca Beh è un'auto Che tra l'altro Quando utilizzo Mi piace anche Perché strappa Un sorriso A tante persone No? Quello è un po' Anche un modo Per broccolare Adesso La tua compagna Non ci sentirà Però insomma Ci sente bene C'ha un udito Finissimo No No Davvero È bello Che strappi Questo sorriso A chi si ricorda Veramente Il nonno Chi mi ferma E mi dice Bellissima Ce l'ha Mio zio No? Fammi sognare Dimmi che è tipo Arancione Turchese Dimmi che è una roba Che colore è? Guarda è Bianca Con gli interni In pelle rossa Ah wow Va bene Sky Non è Pelle Veramente sky Però guarda È un'auto Cioè adesso io voglio Non voglio fare la retorica Dei tempi che furono Però Ti stava meglio No no Ti giuro Te lo giuro Ho anche un'auto normale Che ho acquistato Perché ovviamente La mia donna Non ama giustamente Andare in giro Senza cinture Perché nel 66 Ancora non erano obbligatorie E però Girando io solo Per raduni O per solo la domenica Così posso farlo E praticamente Sono sceso Per accendere il motore Di entrambe le macchine Che da un po' Che erano ferme Oh La lancia musa È ferma La batteria E il 124 Si è acceso Ma noi non stiamo Facendo pubblicità Tutte le macchine Sono pazzesche Ci piacciono tutte Ah no no Certo Sono tutte incredibili No ma è un 124 D'epoca Non è in produzione No invece Hai citato più Più volte Il fatto che Eri Sei un sommelier Eh sì Sì Quello è quello Diciamo dove Insomma Sì Ho lavorato In quell'ambito Nella ristorazione Di Di Cioè Diciamo che sì Ho deciso Allora Io volevo fare l'attore Però Non è stata una cosa Che mi è stata Come dire Concessa immediatamente O comunque Non era Non era nei piani Quando sei piccolo Ovviamente Sono delle persone Che badano per noi E quindi Non puoi fare esattamente Quello che vuoi Però ad un certo punto Invece decisi Comunque Di rompere Questa sorta di legame E E per farlo Pensai Di andare all'estero Di modo che Avrei comunque Portato a casa Almeno una lingua Se non altro No? E quindi Decisi di andare in Inghilterra Però prima di fare ciò Mi posi questo quesito Cioè Che cosa posso fare? E allora pensai Come appunto Che cosa Cioè Sono italiano Ho pensato No? E in che cosa Siamo bravi noi? In tante cose Ma in che cosa Siamo conosciuti Nel mondo? E dissi Spaghetti Mandolino E mafia Mafia L'avevo fatta dopo Poi mi scorda Per finta Diciamolo Per finta Ovviamente per finta Mandolino Ci sto provando Adesso a imparare Questi giorni Un po' Suonare la chitarra E spaghetti No? Quindi la ristorazione Il mondo della ristorazione E grazie Al mio Di rimpettaglio Di cinisello balsamo Pasquale Detto Paschale Cazzotta Ovviamente Mi introdusse Al mondo della ristorazione Portandovi a fare I banchetti Hai vissuto 12 vite Tu però Ma non ti ho raccontato Un sacco di cose Però insomma Pasquale Mi ha introdotto Ai banchetti di lusso Sai Matrimoni Di un certo tipo Dove si fa un servizio Con Geriton Così E da lì Mi portai a casa Non solo Quegli 800 euro Con cui andai Così Alla rinfusa A Londra Ma anche Un minimo di conoscenza Per approcciare E da lì Iniziai a lavorare Te la faccio breve In vari posti Tra cui Langham Hotel Che è un posto Meraviglioso Ho fatto già Ancora pubblicità Un'altra volta Avrai Un figlio Pazzesco No vabbè È un albergo Splendido Veramente Che è Pare È il primo Grand Hotel D'Europa Ed è un castello Meraviglioso In mezzo a Regent Street No? E poi da lì Sono andato a lavorare In altri posti Stellati Michelin In quell'hangam Quando andai a lavorare Praticamente Stavo andando via La sommelier Una ragazza spagnola E c'era L'assistente Food and beverage supervisor Insomma l'assistente Del manager Che era italiano Giovanni E Giovanni Mi diede Questi compiti Di riapprovvigionare Praticamente La cantina Quando finivano I vini Che vendevamo E da lì Gradualmente Io ho iniziato Una sorta di apprendistato In quel mondo Che poi è continuato Nell'alto albergo Che adesso Ho imparato la lezione Non menzionerò E ho lavorato Lì con dei francesi Facendo il commissomelier Fino a che poi Preso dal racconto Di questo russo Che lavorava In questo ristorante Storico Proprio di Londra Proprio da Jack the Ripper Proprio quella Quella Londra Lì fumosa Dell'ottocento Quest'uomo Ma non era neanche russo Era tipo Di uno dei paesi Che adesso Non sono più russi Ma una volta Lo erano Con questo sguardo Di ghiaccio Guardando Un po' Tipo L'orizzonte Di questa sala Così Tutta Perfettamente Addobbata Disse Ricordava In realtà Parlava a se stesso Ricordava Di questi tempi In cui lui lavorava Nelle navi da crociera E mi affascinò Talmente tanto Questo racconto Che decisi Di documentarmi E feci Insomma Domani trovai Questa piccola compagnia Feci questo test Di 100 domande A cui risposi Correttamente A 86 Che poi È lo stesso numero Con cui mi sono diplomato Alle superiori Pur essendo un pessimo studente Devo dire Giochiamo All'otto Questo Dico a tutte le signore Diamo anche i numeri Signore E quindi niente Quindi poi andai a lavorare Lì Sulla Silver Sea Mi mandarono Il biglietto aereo Andai a Singapore Ma io non lo so Mi aspetto Da un momento o l'altro Che mi tiri fuori Anche un cargo Battente Bandiera libanese Ma guarda Io infatti Non le racconto In realtà Queste cose Mai Infatti Ci siamo simpatici Perché anche tu mi sei simpatico Normalmente Non è che sto lì Proprio a Ma noi ci piace Noi ci piace Ma allora Senti Ho delle domande Sul bilo Delle domande Da ignorante totale Intanto vorrei capire da te Se come quantità Per una A cena Tavola Una bottiglia Va bene Una bottiglia in due È la dose giusta Diciamo Sì Assolutamente Assolutamente Ecco Poi vorrei proporti Delle situazioni E tu ci consigli il vino Man mano Adesso Situazioni di Quarantena Perché Purtroppo Allora Ad esempio Me le sono segnate Perché non mi ricordo niente Ma ti devo dire Il bidigno o la cantina Qual è Qual è più pubblicità Più pubblicità Di dire la cantina Allora La cantina Ah proprio così Spudorati Abbiamo fatto casino Va bene Intanto mia sorella Chiede su che ruota Dovevo giocare Il numero Infatti Diamo nei tre Di numero 86 Poi 19 Che è il mio giorno di nascita 19 Poi 7 Per peccare Luglio Tanti è anche il numero Che la cabala 86 19 7 Se vincete Qui si Si smezza Perché insomma Datecela Percentuale Allora senti Situazione Aperitivo In solitaria Di un single Uomo Età media Media Definita Che così Accanto C'ha come stuzzichino Qualche avanzo Della sera prima Cosa si beve Ma berrei Un gavi di gavi Un bianco Veronese Piacevole Non troppo impegnativo Da compagnia Direi Due bicchieri Diciamo Sì Due bicchieri Non esageriamo Mentre Sempre in questi giorni Di disgrazia sociale Una cena Due Con uno sforzo Di romanticismo Cioè Facendo finta Di essere un po' romantici Cosa si può bere? Beh Visto che hai detto Sforzo Io direi Visto che è anche Una regione Abbastanza colpita Anzi Forse la più colpita Io suggerirei Un vino Lombardo Che si chiama Sforzat Ma io di dove sono Secondo te? Sei Lombardo Sei un valtellinese Sei un valtellinese? Ma Sforzat Allora lo conosci Eh beh Cioè io L'acqua Non la uso più Da quando ho conosci Sforzat Mi ci tocca Con lo Sforzat Devo dire che però È un po' forte Come vino Noi siamo pronti Diciamo Non ci fa paura niente No No scusami Volevo dire prima No qualcuno Giustamente ha scritto Prima pensavo Ho detto Gavi Ma pensavo al Suave In realtà Pensavo al Suave Beh io non ho detto Che sono ignorante Per cui puoi dirmi Qualsiasi cosa Per fortuna Che ci correggono Senti Per un brunch Domenicale Situazione Balcone Cos'è Che fanno tutti I brunch Da un balcone All'altro Beh io direi Un bel rosè Ah rosè Ti piace rosè Sì sì Ma io trovo Un po' ignorante Ma perché Vabbè Ma no 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 O rosè O un orange wine Che adesso Vanno anche di moda No no Il rosè invece Mi piace Anche ovviamente Nella sua versione Sfumante Metodo classico Ce ne sono Svariatissimi Quindi non Non facciamo Nomi però Dai toscani Molto buoni Della zona di Bvlgari Piuttosto che Ovviamente I siciliani Anche campani Molto buoni Ce ne sono Io proporrei un rosè Ultima situazione Fine di quaresima Liberi tutti Mega brindisi Totale A base di Franciacorta Franciacorta Ottima No Lo champagne italiano Ci sta Sosteniamoci un po' anche Tu hai detto Che stai imparando Il mandolino Però Corre voce Che tu Sia in grado Di suonare L'armonica Ma la suono a cuore La suono a cuore Fede Cioè Come mi sento Ma non ce l'hai L'armonica Lì a portata di mano No No Purtroppo no E poi Stendo a fare Delle ballate Malinconiche Da morire Non è il caso Ci starebbe anche Come Come mood No Senti Una volta Ho letto Sul tuo Instagram Un post di qualche giorno fa E Hai scritto Più forte è il sacrificio Più grande è la ricompensa Qual è il sacrificio più grande Che tu hai mai fatto Nella tua vita E poi vorrei chiederti anche Quanto è un sacrificio Vivere questi giorni Di Come dire Forzatamente a casa Allora Guarda Il sacrificio più grande Che ho fatto In realtà È stato quello Che Appunto Per inseguire un po' Questa Questa passione Questa Questa scintilla Poi più che desiderio In realtà C'è qualcosa che sentivo Di Appunto Di intraprendere Questo percorso Dell'attore Mi è costato Anche molto Nel senso che Ovviamente Ho perso Tutte delle Delle dinamiche Familiari Inteso come Cioè Di abitudini Con Con gli amici Di sempre Una sana routine Dove appunto Hai dei riferimenti Questi li ho persi Fondamentalmente Perché ovviamente Appunto Come tutti noi sappiamo Quando prendi altre strade È inevitabile Che i rapporti Un po' Si sfilaccino E però Mi pesa Perché Tante Tante volte Vorresti avere Quelle Figure Quelle persone A cui Puoi Ovviamente Fare una telefonata Condividere Perché anche se Lo facessi Con qualcuno Con che ancora Sono in contatto Cioè È ovvio che Non è che Capirebbero esattamente Quelle che sono Le dinamiche Del mio mestiere O quelle che possono Essere Le gioie Di dolori Diciamo Quindi questo Diciamo Il sacrificio Che mi pesa Un po' Di più Che però Ovviamente Sta sul piatto Della bilancia Ci sono anche Altri aspetti Invece Molto Appaganti Di questo mestiere Che ovviamente Bilanciano Quello che perde Mentre l'altra cosa È il sacrificio Di questi giorni Qual è In questi giorni La cosa Che vivi di più Come sacrificio Cioè Non vedere qualcuno Non poter fare Qualcosa di specifico Qual è Il grande sacrificio Allora Guarda Devo dire Sono appunto Come dicevamo Sono fortunato Perché sono qui Con appunto Vanessa e Beba Quindi Ho le persone Qui I miei sono su Però sono Al sicuro Anche mia sorella Che vuole sapere Appunto La ruota Su cui giocare Questi numeri E te la darò Anna Non preoccuparti Tra l'altro Anna che invece È milanesissima Mia sorella Invece Proprio La super milanese Sì sì Quindi No Quello che mi manca Ti devo dire la verità È ovviamente Appunto Poter prendere la moto E andare Appunto Ai castelli Piuttosto che Verso il Viterbese Fare queste piccole gite Che mi piace fare Anche da solo Ma semplicemente Anche la libertà Io sono anche Un improvvisatore No Quindi Decidere all'ultimo Di appunto Roma Te lo regala Questo No Cioè Andarti a mangiare La cosa Nella trattoria Un po' Fuori mano Con Capito 12 euro Fare un pasto Così E queste libertà Ovviamente Ci sono precluse E mi chiedo Per quanto In realtà Perché Non chiedi Arturo è meglio Fidati Però In compenso Cucino abbastanza bene Avendo lavorato In questi posti Quindi È arrivato il momento Se sei d'accordo Della domanda Del pubblico Perché il pubblico Ovviamente E dico anche Giustamente Si lamenta spesso Delle domande Che facciamo Che faccio Per cui Darei la parola Al pubblico È il primo Che si Prenota quel pulsante E vince la domanda Vediamo Vediamo Soprattutto A tuo rischio E pericolo Ma sì Tanto ormai Con questa quarantena Non ci sono più Niente Uno perde Qualsiasi Sono nudo sotto Considera Sono vestito Fino a qua Sto scherzando Non arriva le domande E allora Ennes canti Sì canto Ma non è una domanda No Ma come arrivate A far l'attore E ti sei persa Tutta la diretta Dolcissima Eh male Se canti O scrivi anche Ecco scrivi Scrivo Sì scrivo Scrivevo Fino a qualche tempo fa Per un appunto Un giornale di moto Se vuoi poi ti invio L'articolo Qualcuno che ci segue L'ha letto Sì Scrivacchio Appunto Ho scritto Questi articoli Di viaggi in moto Di cui parlo Dei paesaggi Rispetto al cinema Se ti interessa Te lo manderò Ho scritto Un soggetto Per un film Che Sta là Ho comprato Anche Penso Tramite mio cognato Cioè il marito Di mia sorella Che l'ho coinvolto In questa follia Quando Ero a prova Agli inizi Ho opzionato I diritti Di trasposizione cinematografica Di un romanzo Che poi ovviamente Nessuna produzione Ha voluto Come dire Opzionare Però Quello sarà Più a mano Non ancora Non ancora E sì Scrivacchio Sì sì È una cosa che Chiedeva Credo orso Arrabbiato Orso Qualcosa Non mi ricordo Qual è il regista Con il quale Ti piacerebbe Lavorare Con il quale Vole lavorare Allora Guarda Di solito Non mi piace Quello che è Tutto È scontato Come dire Sì Scontato Nel senso È ovvio Che ci sono Dei grandissimi Registi In Italia Uno su tutto Che tutti Amano E giustamente È Paolo Sorrentino Ma non credo Che ci arriverò mai A lavorare con lui Pertanto Ti punto Sui giovani E ti parlo Di un ragazzo Che secondo me È molto bravo Che si chiama Stefano Lodovichi Che sta girando Delle serie E secondo me È molto talentuoso E mi credo Di aver intuito Che ha un modo Di lavorare Molto simile A quello Che è il mio E se il destino Ci porterà Insomma A condividere Lo stesso set Sarai contento E perché Sorrentino No? Ma perché Sorrentino Cioè Quasi mi piace Più vederlo Guarda Perché Non vuoi rovinare Non voglio rovinare L'aurea Di bellezza No no Per carità E veramente Pensa che Quando ho fatto La scuola di cinema Perché poi Dopo tutti questi viaggi Tornato a Roma Ho fatto tutta la mia gavetta Di cui Ti taglio fuori Un sacco di cose Ma alla fine Approdaria Una scuola di cinema Gratuita E io andavo In giro Per i corridoi Della scuola Dicendo Io ho sempre voluto cantare Da piccolo Mio padre si ingazzava E io cantavo ancora di più Mi picchiava E io cantavo ancora di più E poi lo cambiavo In base a ogni cosa Che incontravo C'era un banco Dicevo Io ho sempre voluto fare Il banco di scuola Ci chiedono Poi ti lasciamo libero Ci chiedono Teatro Se hai mai fatto teatro E se Ti piace Se vuoi tornarci Guarda Rispetto alla parte Che ti ho tagliato Appunto Anzi grazie per la domanda Ho iniziato Praticamente Col gavettone Proprio Classico Cioè Teatri Veramente Di 40 posti Di cui paganti 5 Praticamente A fare Lo zoo di vetro Per esempio Di Tennessee Williams Piuttosto che Veramente Osborne Ricorda con rabbia Oppure feci una tournée In Toscana Tante delle persone Che mi seguono Sono della Toscana Quindi li saluto Nel mare in mano Feci questa Questa tournée Shakespeareana In tutti Insomma Dei paesi Anzi In realtà In tutti i luoghi Con Delle rovine etrusche Di cui è piena La Toscana E la mare in mano Quindi sì Ho fatto Parecchio teatro Parecchia gavetta E sì Vorrei tornare Però Insomma Spero di incontrare Sono un po' Separati Teatro e televisione E ancora cinema Però Insomma Spero di incontrare Una produzione Un testo Un regista Che Insomma Mette a frutto Quelle che possono essere Le frecce Al mio arco E quindi al suo Perfetto Ernesto Noi ti ringraziamo Però prima L'ultima domanda Che ti devo fare io Risposta sincera Ti sei divertito Di più oggi O di più l'altro giorno Con GQ Mi sembra che Non si senta bene La C'è un problema C'è un problema Di comunicazione C'è un problema Senti Ernesto Grazie infinite Grazie a te Buona quarantena E a presto Oh Grazie a te davvero E grazie a tutte le persone Ci hanno seguito E complimenti Per il lavoro che fate Perché comunque Portate anche A casa di tutte le persone Facce Persone diverse Insomma Storie Racconti Quindi grazie Ci proviamo Grazie infinite Grazie mille Grazie mille Ciao Ciao